Adesso apro un hotel dell'amore, non so se hai capito Frank, Frank un hotel dell'amore, quella parola che tu non sai manco do sta' per casa, amore hai capito? A te non ti ama nessuno, zitto Frank non rispondere o ti licenzo Salve, mi puoi mettere a fuoco il telecamera grazie, lo rifaccio, salve, questo è Electric Oggi siamo qui per parlare di una cosa molto importante, di tante cose molto importanti, importanti per la vostra esistenza, per il vostro sapere, per la vostra conoscenza, per elevare il vostro livello culturale Quanto sapete su i tricicli? Tanto o poco, non mi interessa, non è questo il punto Oggi parliamo di 15, forse 14 perché non ne ho trovate altre, cose assurde giapponesi Ho fatto un po' di ricerca per questo video, quindi adesso iniziamo subito eh Su cose davvero assurde che mi potevano colpire, colpire quindi anche voi, che succedono e che trovate solo in Giappone Io personalmente sto mettendo a parte i soldini perché un giorno tocca che ci vado O la prossima volta che ci vanno i mates, mi imbuco, porca miseria, che Vegas ne sa tanto del Giappone e tocca che mi spiega cose eh Iniziamo dal numero 1, anzi 15, facciamo retrocessione, no? All'indietro, non è una top, forse la chiamo top, così un po' clickbait Top 10, cose assurde sul Giappone Così la gente ci clicca perché piace tutto quello che è top, qualcosa, ma non è in ordine di importanza Ecco, è come lo organizzate sul computer, basta Numero 1 o 15? Numero 1 è Yaeba Si chiama Yaeba, questi denti che vedete qua, coi canini sporgenti, è una nuova moda giapponese Nuova non proprio, ormai c'è i suoi 7 anni tipo Frank puoi zoomare sui denti della ragazza? Cazzo Frank, ti pago il 15 del mese, non te lo do l'aumento, ti ho dato due scatolette di tonno l'ultima volta Puoi zoomare adesso? Grazie Frank Ecco, qui stanno i denti sporgenti canini Questa è un'altra ragazza con Yaeba, con i Yaeba, questi denti sporgenti canini Ecco un'altra ragazza con i Yaeba, insomma, non so che dire Yaeba si traduce letteralmente in doppio dente È una procedura dentale che vede i canini superiori limati E non so se ci aggiungono ceramica o qualcosa per farli allungare E farli appunto sporgere Costa tra i 130 e 340 sterline mi sembra, non so quanto in yen Qui abbiamo una bella foto, Frank zoomami sulla foto per favore Cazzo Frank, zoomami su questa cazzo di foto Ecco, prima e dopo la ragazza Sembra che ci sia un tipo che si chiama Tao Masuoka Ad essere responsabile di questa magica invenzione E voleva rendere le ragazze carucce ancora più carucce Con questi dentini, guarda che da vampiro, insomma, non lo so O da gatto Ma c'è anche un video al riguardo, io direi vediamolo Quindi c'è questa ragazza che viene messa lì Adesso te limo io i denti, è bella, stai calma Che muopio il trapano Io do sotto, eh Ah, fammi vedere sti denti Bene, abbiamo finito, zia Guardate un po' quanto sei carina Ah, 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 ah Adesso posso mordere le persone e succhiare loro il sangue Non è magico E non sei neanche bellissima Sia con i denti che senza i denti Lascia stare, ragazza E chiudiamo questa sezione guardando proprio i denti di questa ragazza Che si è fatta molteplici foto dopo aver fatto questa operazione Numero... Allora, in Giappone esiste un'usanza E uno scherzo in realtà Che sembra vada molto da tempi antichi Che si chiama Cancio Con la K e col CH Non Cancio con C-A-C-I-O Lasciamo perdere Praticamente tu devi mettere le mani così E le devi ficare al culo a uno Questo è lo scherzo Non so come altro spiegarlo in modo più elegante Spieghiamolo in modo più elegante Devi appropinguare le mani in posizione da pistola Proprio in questo modo In codesto modo E infilarle scherzosamente nell'antroanale della vittima Dello scherzo Perché è uno scherzo? Anche Kakashi lo fa L'avete visto su Naruto quando prende Naruto? Frank mi puoi mettere un attimo il video di Kakashi Quando fa il Cancio a Naruto? Frank hai rotto! Non ti pago due scatolette di tonno al mese Per stare lì e non fare quello che ti dico Fai quello che ti dico Grazie No, non ti faccio salutare dagli iscritti Non sei nessuno per loro Vediamo un po' di immagini del Cancio C'è una gif fantastica Addirittura una statua signori Qui si vede che è un turista che si fa fare il Cancio da un folle Che sta lì Vedete le persone come si appropinguano per infilare le manine Le ditine, no? Io pensavo fosse una pratica sessuale una volta Adesso invece è tipo uno scherzo, va bene Numero 3 In Giappone esiste questa cosa che si chiama Cuddle Cave Non sono proprio degli hotel Ma sono... È un'attività che tu vai lì e paghi Sborsi i dindi I soldi Frank hai capito? Quelli che tu non c'hai Se vendessi l'amicizia come ti ho detto Adesso ce l'avresti i soldi Ma no Non ascoltiamo, però Facciamo come ci pare Tu paghi per dormire con un estraneo Un estranea Carina, caruccia, insomma E nient'altro, eh Non è che paghi perché te la vuoi bombare o qualcos'altro No, tu paghi, te fai un pisolino Quindi chi ci andrà? Degli sfigati giapponesi, tipo del genere Vediamo un po' Il primo Cuddle Cave di Giappone Del Giappone Permette di dormire con un estraneo Per 6.000 yen Oh, io non so quanto so 6.000 yen Ma magari sono un po' tanti i soldi Non lo so Ci sta pure l'estino prezzi 20 minuti, 3.000 yen 40 minuti, 5.000 yen 2 ore, 11.000 yen È fantastico Abbiamo anche un video al riguardo Che ha fatto la CNN Speriamo che non ci caschi sul copyright Frank, puoi fare partire il video, per favore? Per favore Grazie Ah, c'è il ragazzo che va lì Non c'ha la ragazza, dice Io non c'ho la ragazza Mi metto lì Mi sdraio Vado da questa Mi sdraio lì vicino E dormo Basta Quindi dopo aver lavorato tutto il giorno Io sai che faccio per rilassarmi Anziché accendere il switch O la play Vado la Mi sdraio E dormo con una Sui 30 dollari Per dormire Per pochi minuti Sulle cosce di questa ragazza Per un abbraccio Puoi pagare per 5 secondi di abbraccio Oh mio Dio Ma che stavamo a scherzà Ma io li do gratis i abbracci Signori Ma venite dal Peu Peu vi abbraccia gratis Dovete venire al Giappone Però vabbè Adesso c'ho pure un povero Pikachu lì Un povero Pikachu Che non c'entra nulla Oh sì Dormiamo insieme Parliamo del più del meno Tanto tu te ne freghi Prendi lo stipendio E ciao Numero 4 Lo sapevate che Non molto tempo Or sono Tipo nel 2011 Dalle scuole giapponesi Non so tutte Ma forse la maggior parte Sono stati Eliminati Inserviente Il cosiddetto Personale ATA Sai i bidelli Che noi abbiamo Che li fanno sempre arrabbiare Perché C'è sta quello che va a fumare in bagno C'è sta quello che sporca Dice Oh E li trattate male Perché è così Ammettetelo Beh questi qua Sono stati proprio eliminati dal Giappone Per un motivo economico all'inizio Ma anche per dare più disciplina ai ragazzi Far pulire loro la scuola Che addirittura Prendono una piccola paghetta Per fare questo lavoro Abbiamo un video Anche in questo caso Frank Fai partire il video dei bambini Che puliscono per favore Guardate come puliscono Proprio come gli anime Cioè non usano lo straccio Come noi esseri normali Devono per forza Gattonare Correre Fare smorfi alla telecamera Peace and love Una telecamera Anch'io voglio apparire E quell'altro che sta pulendo Oh anch'io voglio apparire E E stanno lì E puliscono Che come Non è un'usanza Tanto lontana Cioè Nel 2011 Io penso che sia nata prima Perché mi ricordo anche in manga E anime Anni 80 Anni 90 Come Ranma In cui loro pulivano la scuola Numero 5 Tempo or sono Ma giusto fino a un secolo fa Era un'usanza Interessante direi Per una donna giapponese Annerire Completamente Pitturarsi Completamente Di nero I denti I denti Tutti neri Perché era considerato Un tratto di bellezza Io direi Più un tratto di satana O qualche demone Infernale Perché se mi arriva una Con i denti neri Boh io scappo Che devo dire Mi sorride Ciao come stai Ciao Come te sei carina Sorride Ciao Frank mettimi la foto della signora qua Con i denti tutti neri Perché guarda Questa è la signora Vediamo altre foto Questa è la foto di un libro Con quella che c'ha i denti neri Altri denti neri Io non capisco dove sia Il tratto di bellezza Ma vabbè Cultura Sai com'è Si sta annerendo i denti Proprio con Non so Una matita Un pennello Boh Non lo so Non so che dire Numero Sei Allora In Giappone Fare il pisolino È considerato Un atto Di diligenza Di onore No Non lo so Però insomma Vuol dire Implicitamente Che tu sei un grande Lavoratore Se tu ti addormenti Qui sul posto del lavoro Beh Probabilmente ti cacciano A calci in culo O forse no Perché lo stato ti protegge Anche se fai cagare al lavoro E per quello Non c'è ricambio del lavoro E ci sono degli Inetti Deficienti Che prendono Dei posti di lavoro validi Non sapendo fare il loro lavoro E rimangono l'inchiviati a vita Ma questo è un'altra cosa Siccome in Giappone La vita lavorativa Spacca i culi Lì davvero Ti spremono Come se fossi Una banana Non so che altra Metafora usare Perché mi è venuta solo questa E non so perché Dovresti spremere una banana A parte questo Quando qualcuno Si addormenta In pubblico Alla metro Al lavoro E' considerato una cosa bella Qui c'è un signore Che dorme Sul giardino Come potete vedere E sta buono lì Questo proprio Davanti al computer E' crollato E' morto lì proprio Boh Qui quasi tutto l'ufficio Si fa Il pisolino veloce C'è solo uno Che è rimasto sveglio Passiamo Al numero Dove siamo arrivati Ah si Sette Brrr Passiamo alla pratica Del ganguro O ganguro Non so come si pronunci Ma in poche parole Sembra essere una cosa figa E non so se accettabile o meno Scurirsi la pelle In modo assurdo Assurdo In Giappone E usare un make up Assai pesante Io lo visto nei manga E negli anime Ma non pensavo Lo facessero anche le persone Invece si E guardiamo Quante immagini A proposito Frank Mettile qua per favore Una ragazza ganguro Vedete Che si è scurita Completamente Make up Ultra pesante Penso che sia Un tipo Di oscurimento Della pelle Falso Fittizio Sai Quelle cose spalmabili Quella bronzatura Falsa Non che ha preso Tanto sole Non penso che una giapponese Può diventare così scura Ecco qui ne abbiamo Un altro bel esempio Estremamente esagerato Altre ragazze Ganguro Per voi O ganguro O canguro Perché saltano Numero 8 In Giappone E' un'usanza buona Mettere su un'attività E non tipo Muova o fa il fruttivendolo No Adesso apri un hotel dell'amore Non so se hai capito Frank Frank un hotel dell'amore Quella parola che tu non sai manco Do sta per casa Amore hai capito A te non ti ama nessuno Zitto Frank Non rispondere O ti licenzio Gli hotel dell'amore Sono hotel che si pagano a ore Ci sono stanze tematiche Tu ci vai con la tua mogliettina La tua fidanzatina O la tua amante O che cazzo ti pare Paghi un'ora E bombi Ok Potrebbe sembrare Assurdo Ma anche E' utile Perché almeno devi pagare Una stanza di hotel A 100 euro Per una notte Quando fondamentalmente Si ti basta un'oretta O dipende Forse anche 8 minuti Se non duri molto Vediamo un po' di esempi Di love hotel Love hotel Frank Zoomami sulle immagini Grazie C'è addirittura A tema medievale Cristio E altre cose Numero 9 Il 98% 98 Mica ciascole 98% Di tutte le adozioni Giapponesi Sono fatte Da adulti Per adulti Cioè Io non adotto Un bambino Perché mia moglie Non gliela fa Cacciarlo fuori Il monello C'ha i problemi O io sono C'ho i problemi I miei spermatozoi Non sono così potenti Insomma C'ho problemi Ma lo adotto Tipo già tra i 20-30 anni Perché Direte voi È un motivo economico Sappiate Se io non ho Qualcuno Che prenda in mano Un mio successore Che prenda in mano La mia azienda E non ce l'ho Perché So sfigato Su brutto E quindi Non bombo E non faccio figli O C'ho problemi Appunto Nella parte bassa Allora Adotto uno Ci sono addirittura Agenzie Che fanno i colloqui Per le persone Da adottare Cioè È come È come un lavoro Che lavoro Vuoi fare Da grande Frank Voglio fare Il bambino Adottato Tra i 20-30 anni Però Cioè Vabbè La stessa Toyota Mi sembra che sia Quattro generazioni Che va avanti Così Adottando Il successore L'azienda Adotta Un bambino Adulto Grande Numero 10 Bene Bene Avrete sicuramente Sentito parlare Del fugu È un pesce Altamente tossico In Giappone E che viene preparato Solo da Chef Ultra esperti Ci vuole una preparazione Di circa 10-11 anni Per poter cucinare Il fugu In un ristorante Per poter Avere la certificazione Che tu puoi Servire quel piatto Potenzialmente letale Perché ti può uccidere Esatto Ti immagini la responsabilità Di uno chef Di servire quel piatto Io Non lo farei proprio A cuor leggero Insomma Frank Mi zoomi Sulla foto Del fugu Per far vedere Quanto è brutto È brutto Sto pesce E abbiamo Un video Anche in questo caso Frank Fai partire il video Se vuoi cucinare il fugu Devi fare 10 anni Apprendistato Non so se hai capito Guarda che vasca di fugu Che ciò Io i fugu Me li ficco dal fugu Cioè una bella responsabilità Signore Mica Mica Ciaspole Lui serve questo pesce Dice Sapendo Che la vita Del cliente È nelle tue mani Cioè ti senti un dio In poche parole Dove siamo arrivati? 10 11 Oddio Non mi ricordo Numero 11 Sembra che ci sia Una foresta In Giappone Che sia il posto Più amato Da chi si vuole Togliere la vita Al secondo posto Nel mondo Perché il primo Se non sbaglio Il Golden Gate Di San Francisco In poche parole È una meta Non proprio turistica Ossì è turistica Ma è il tuo ultimo viaggio Dark humor In particolare Dopo la pubblicazione Di un dato romanzo Si chiama Kuroi Jukai In cui tipo Un innamorato Va lì Se toglie la vita Da quel momento Circa 100 persone l'anno 100 persone l'anno Vanno lì E si ammazzano E sai chi ci fa i soldi In questa faccenda? La Yakuza Perché la Yakuza Va lì Ripulisce i corpi Capito? È una foresta così fitta Che la polizia Non ci pensa nemmeno A ripulirla Va a morire qualcuno Ma va a morire Ammazzato Gli dice Letteralmente E lascia non perdere Ti rendi conto? Ti rendi conto? Qui se si ammazzano Una persona La cercano per tre mesi Non lo so Forse sì Forse no Numero 12 12 12 12 12 In Giappone Vanno molto I hotel a capsula Che personalmente Da architetto È un po' il futuro Nel senso Che non manca molto Finché la popolazione mondiale Sia così vasta La crescita demografica È sempre Molto forte Il giorno d'oggi Ed un giorno Ci ritroveremo Non tanto In un hotel del genere Ma in una casa Io immagino Che noi avremo Una casa Che è come questa Che vedete in foto Cioè Io sto nella mia capsuletta Chiudo E ciao È finita lì Questa è grande Signori Questa è grande Scommetto che i prezzi Siano molto abbordabili Di questo tipo di hotel Proprio perché È una capsula Non è che hai preso Una stanza Colletto king size E le madonne No? E guardiamo questa Questa è davvero stretta Tutti a arrampicare Per entrare lì dentro In piedi non ci puoi stare Ovviamente Ti metti lungo Ci sarà il bagno comune Cucina comune E cagate comuni È quello il futuro Signori È il futuro Nello stesso gioco Deus Ex Machina No Deus Ex Solo si chiama Non Machina Si chiama solo Deus Ex Human Revolution O anche l'ultimo Ci stanno queste ambientazioni qui Essendo ambientato in un futuro Avanti Neanche troppo lontano Io immagino che Già tra 50 e 60 anni Questa roba Sarà una casa Numero 13 In Giappone Le macchinette che vendono cibo Le vending machines Vendono davvero Quello che minchia ti pare Ok? Ha chiuso il supermercato Cagate Ti sei inculato Beh C'è una vending machine Che fa per te Ci puoi comprare Dai assorbenti Trampon Che le scarpe Pesce Carne E anche le banane E guardate questa foto Frank Metti questa foto Qua ci stanno le banane Dole Oh Dole Come se dole Ve la ricordate la pubblicità? Abbiamo visto la pubblicità Delle banane dole Una macchina intera Che vende solo banane dole Oh Ma te l'hai dico Qui non finisce mai le banane Oh Ce n'è Ce n'è in abbondanza Guardiamo questa tema Hello Kitty Quanto è carina Si vendono tante cose Interessante vero? Guardiamo queste In cui si vendono anche cose anime e manga Magnifico vero? Guardate questa Qui si vendono spaghetti Piatti pronti Di tutto È magico Numero 13 O 14 No 14 Questo è breve È probabile che se tu vai in Giappone Ti troverai a pagare qualcosa E il prezzo da pagare ti verrà calcolato Probabilmente con un abaco Come la signora qui in foto Numero 14 Le cosiddette steals in inglese Geta in giapponese Ciabattone in italiano Sono soprattutto usate Erano molto usate da tutti Ma ora sono soprattutto usate Dai chef di sushi Pesce in generale in Giappone Come vedete questo qua in foto Sta fuma una paia Sta fuma una sigaretta Dopo aver lavorato E perché sono così fottutamente alte Perché quelle sono 10 cm Di ciaspola Perché lui quando taglia il pesce Sminuzza e fa Butta le robe per terra Almeno così non le pista Cioè non ci si sporca Quindi sta molto alto E questo è il succo Fateci caso se andate in Giappone Numero 15 La chiudiamo con questa Beh il tuo posto da morto Costa caro in Giappone Che non è che Sei morto e ti aspetta lì La tua tomba è tua Ciao bella No no Tu paghi l'affitto Come ogni persona viva Cioè morta in realtà Si Paga la tua famiglia O se no hai pagato prima di morire Non mi interessa Perché se no Ti ritrovi con un avviso Come in foto Disfrato Che qua C'è chi paga E potrebbe prendere il tuo posto qui Non so se hai capito In poche parole Il cimitero Costa il posto morte Tipo il posto letto morte Il posto letto eterno Bella questa Costa Hai capito Quindi Metti a parte i soldini Per quando sarai morto E questo è quanto Per questo magnifico video Spero che vi siete divertiti Se così è stato Beh non scordate di mostrare Un bel po' di amore Il pulsante qui sotto A forma di pollice in su Fatemi sapere se volete Altri video del genere Di qualcos'altro E ricordatevi che Questo qua Questo uomo qua Minchia zio Questo uomo qua Electric Brrr Allora Ho how Ehi 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 M